Ben ritrovati amici stellari, iniziamo con il segno dell'ariete. Il cielo consiglia di mettere a posto ogni faccenda amministrativa, fiscale e legale, se ne avete. Tenute in sospeso, una minacciosa luna dissonante potrebbe sconvolgere gli equilibri anche tra parenti stretti. Se in una società di famiglia qualcosa non è stata perfezionata come occorreva che fosse, attenti, spulciate ogni imperfezione che potrebbe cagionare di tasse, verbali e grattacati, ma soprattutto uscite di cassa fuori programma. Toro, anche se oggi non sarà tutto facile, voi farete in modo che lo sia, almeno ci proverete. Luna, Sole, Nettuno e Marte in pesci vi stuzzica. Sentirete il bisogno di piacevoli evasioni, niente di stravolgente, basteranno la compagnia giusta, una comitiva d'amici allegri, che il mondo intorno a voi sarà più accettabile. Gemelli, se continuerete ad alimentarvi senza regole, tempi e cibi sballati, ne pagherete le conseguenze in termini di salute, ma anche di aspetto fisico e soprattutto altererete pure l'equilibrio di coppia. Il partner vi vuole in perfetta forma e voi nell'ultimo periodo siete troppo trascurati. Cancro, ricordi, malinconie, la giornata di oggi e quella di domani sarà così. La luna, quando sollecita il vostro sole, rende così tristi. Attenzione, sembra quasi che sentite impellente il bisogno di isolarvi volutamente in uno stato di clausura e sofferenza pilotato da voi stessi. Come se ne volete trarne un dolore? Beh, certamente è ingiustificato, ma evidentemente che vi serve come linfa per alimentare uno stato d'animo lunatico e forse non ancora del tutto pronto a qualcosa di particolarmente bello che ti aspetta, Leone. Amici facoltosi, potenti e divertenti, poiché qualcuno si presterà nelle sue migliori performance pur di strapparvi un sorriso. Oggi sarà particolarmente difficile, giacché la vostra salute perde qualche colpo, ossa e vie respiratorie sono da cautelare. Un acciacco cronico si ripresenta, successivi fastidi da prevenire. Vergine, le sfortune non vengono mai da sole. Le discussioni alterti prima con i colleghi e i collaboratori, poi magari con i vicini di casa insolenti, poi i parenti stretti deludenti. Adesso anche un amico sincero, almeno così vi sembrava. Un suo parlare a vanvera destabilizzerà una casa. Voi così precisi siete messi al centro di una fastidiosissima discussione che tra l'altro anche poco chiarificatrice. Beh, ci sono nuove amicizie in arrivo e sarà necessario per far pulizia bilancia. In amore non siete cavalier serventi, tutt'altro siete sempre gradevolmente rigorosi, piacevolmente affettuosi, amabili quanto basta e ottimi conoscitori del manuale come far innamorare in una sola settimana i partner più ostici. Eppure oggi, oltre alle belle maniere e le paroline dolci, occorre una certa dose cospicua di fatti. Un viaggio anche piuttosto lungo per raggiungere l'amato o l'amata sarà richiesto e come tale non potrete esimervi. Scorpione, la passione vi spingerà a fare cose mai fatte prima. Certamente avete il cielo a favore. I pianeti più importanti si trovano in posizioni strategiche. Sentite qualcosa in voi che sta cambiando, anche se non riuscite ancora ad identificarla, però, attenzione, frenatevi, aspettate di prendere, magari prima di prendere un impegno, gli effetti di questa venere che vi transita. E dopodiché fate i vostri calcoli. Sagittario, non cercate scuse a voi stessi se l'atmosfera di casa non è quella ideale, aspettate pazientemente che passi la bufera. Capricorno. Cari amici del Capricorno, un ripensamento, beh, ritornerete sui vostri passi. Una questione economica che riguarderà il matrimonio. Se sarete sposati o una società, non vi convince e troverete il modo per esprimere un dubbio che vi sarà chiarito senza alcuna resistenza. Acquario. Se accetterete un trasferimento, dovrete come prima cosa organizzarvi nei minimi particolari la nuova casa e tutto quello che le gira intorno. Soprattutto quando evitate di partire all'avventura, cari amici, perché dovete avere tutto in perfetta linea. Le difficoltà che incontrerete potrebbero essere più complesse di quelle che immaginate pesci. Un incontro vi fulminerà, un momento passionale che scuoterà sia la sfera più intima, i sensi, ma anche gli ormoni, che quella spirituale, i sentimenti e il cuore. Nettuno vi farà fare un passo avanti e tre all'indietro. Qualcosa vi spinge ad usare, ma qualche altra vi frena. Un abbraccio stellare da Lucia Arena.